Prima di comunicarvi questa notizia a Vincente, vi chiediamo gentilmente di premere il pulsante mi piace, iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdervi nessun aggiornamento futuro. Grazie del supporto. La famosa showgirl svizzera Michelle Hunziker, come alcuni di voi potrebbero sapere, ha due fratelli, Harold e Andrea. Tuttavia, i rapporti tra Michelle e Andrea sembrano essere avvolti in un velo di mistero e complicazione. Sorprendentemente, Michelle non ha mai menzionato Andrea nel suo libro intitolato, Una vita, e durante un'intervista, Andrea stesso ha svelato che non si sono visti da oltre dieci anni senza un motivo apparente. Con una sincerità struggente, Andrea ha confessato, sono sordo e quasi muto, ma esisto e ti voglio bene. Sono anche molto malato. Cinque anni fa mi hanno diagnosticato un tumore al cervello, ma fortunatamente i chirurghi svizzeri sono riusciti a rimuoverlo. Non hai mai menzionato il mio nome, come se non esistessi, ma sono qui. Ti perdono e voglio riabbracciarti. Questo appello commovente sembra essere caduto nel vuoto, poiché Michelle non ha risposto pubblicamente. Recentemente, ha condiviso un'immagine in bianco e nero del suo passato su Instagram, in cui appare insieme al suo fratello maggiore Harold, suscitando un'ulteriore curiosità tra i suoi fan. Ancora una volta, Andrea è stato ignorato. La domanda che tutti si pongono ora è, perché Michelle sembra ignorare l'esistenza del suo fratello Andrea? Questo mistero avvolge la loro relazione in un alone di incertezza, una storia che potrebbe rimanere irrisolta a meno che un giorno Michelle decida di svelarla. Grazie per averci seguito in questa avvincente storia familiare. Vi chiediamo gentilmente di continuare a seguirci, iscrivervi al canale e attivare le notifiche per rimanere aggiornati su tutte le nostre future rivelazioni e storie coinvolgenti. La verità potrebbe essere solo a un click di distanza.